Una sulmona che ha grande bisogno di un'amministrazione che inizia a lavorare subito e per la città. Quindi mi aspetto un grande senso di responsabilità da parte della minoranza che possa in maniera costruttiva svolgere il suo ruolo perché si superino rapidamente quelli che sono stati i picchi, i veleni e delle brutte pagine di contrapposizione tra le due parti della campagna elettorale e se arrivi a definire un clima comunque sereno, di dialogo naturalmente nel rispetto dei ruoli noi non ci aspettiamo sconti assolutamente ma ci interessa una minoranza dialogante, costruttiva che ci aiuti a fare meglio e di quello che noi potremmo fare.